La prudenza nel calcio non è mai troppa, ma l'8 marzo in promozione può aver segnato l'autentica svolta nella lotta per il salto in eccellenza. Sì perché il Montevarchi capolista, vittorioso a Marciano di misura ma con un'infinità di occasioni da rete create, ha allungato ancora in classifica, portando a sei le lunghezze di vantaggio sul Grassina, con altre tante gare da giocare. E se il gol partita è stato propiziato da una papera evidente del portiere Chianino, la superiorità tecnica dei rosso-blu nell'arco del confronto è apparsa evidente. Basterebbe contare soltanto le tante chance fallite dai valdarnesi nella ripresa. Dicevamo ad ogni modo che la ventiquattresima di campionato potrebbe risultare decisiva. A confortare l'Aquila è infatti arrivato il pareggio dell'Aresco Reggello in Estremis con il Grassina, che ora appunto scivola a meno sei. Toccando ferro quanto si vuole, è chiaro che le percentuali di vittoria finale dei Montevarchini sono cresciute in modo esponenziale. Un'occhiata al calendario adesso degli Aquilotti. Domenica prossima il Briliperi arriverà all'Antella, mentre il 22 del mese è in programma la trasferta di Chiusi. Il match di Campanile del 29 marzo con il Laterina prelude alla pausa di Pasqua e alla ripresa, il 12 aprile, i rosso-blu saliranno a Reggello. La sfida a Casalinga con il Prato Vecchio il 19 aprile potrebbe coincidere con la festa e sette giorni dopo il torneo terminerà per Daveri e compagni alla Rufina. Insomma, scongiuri sì, eppure calendario alla mano, il traguardo è sempre più alla portata.